Il dolce... Me lo taglia a toi. Matteo, taglia tu, tranquillo, con mano certa, professionale. Vai a prendere l'acqua che è finita? Sì? Molto indipendenti, autonomi, bravi... Ma perché non la chiamano papà? Lei si fa chiamare Mario. È una confidenza che suona sempre male. In questo caso hanno ragione loro, perché io non sono il padre. Quando ho sposato Isabella, lei si era appena separata dal precedente marito. E fermi voi! Basta! Ma tu cosa hai fatto a quel braccio? Ho dato un bel cazzotto in bocca a uno stronzo a scuola e mi sono rotto il braccio. Autonomo, veramente autonomo, molto bravo, sì. Pronto? Chi è al telefono? È Marco. Chi è Marco? Un suo amico. Ci sono delle foto di Marco in casa, si possono vedere. Cosa fa Marco? Studia, studia. Primo scientifico. Età? 16 anni. Ah, già non mi piace questo Marco. Due anni indietro, eh? No, è bravo, fa il calciatore. Il calciatore? Sì, gioca nei junior di Tore Spaccata. Sì, ho capito il tipo. Tutto muscoloso, grinta, gambe grosse. Lei non faccia il tunnel. Cosa? Lei mi sta scavando sotto e mi toglie la panna, la castagna, da sola sopra. Non ha senso. Il Mont Blanc non è come un cannolo alla siciliana, che c'è tutto dentro. È come uno zaino, lei se lo porta appresso per un mese e sta sicuro. Il Mont Blanc ne si regge su un equilibrio delicato, non è come la Sachertorte. Cosa? La Sachertorte. Cos'è? Cioè, lei praticamente non ha mai assaggiato la Sachertorte. No. Vabbè. Continuiamo così, facciamoci del male. Vabbè.